Avvocato Follieri, questa diffida che sta per partire, per dire cosa alla Regione in sostanza? La diffida è stata già notificata per la verità, è stata notificata il 7 di aprile perché lo scopo è indurre la Regione e anche la concessionaria, aeroporti di Puglia, a dare esecuzione a quelli che sono gli impegni assunti e soprattutto al piano di investimenti. Quali erano gli impegni assunti in sintesi? Per il piano degli investimenti sono stati assegnati all'aeroporto di Puglia dal 2005 circa oltre 30 milioni di euro. Di questi 30 milioni di euro pensi che ne sono stati spesi pochissimi e per quanto riguarda la pista in particolare, l'importo di 14 milioni di euro, secondo i rilievi monitorati dall'ANAC, sono stati spesi solo il 10%. Per altre cose. Perché secondo lei si è fatto un'idea? E guardi, il problema è che qui ci sono influenze politiche chiaramente. Ora, io credo che siamo un po' vittime di questi tempi. Perché in questi tempi chi non ha un forte appoggio politico non riesce a realizzare nulla. E siccome Foggia mi sembra un po' abbandonata, non si riesce a realizzare questo aeroporto. Se non lo fanno, l'esito quale sarà? Lo sviluppo quale sarà? Uno, denunzi alla Procura della Repubblica nei confronti di chi innanzitutto non ci risponde alla diffida per un interesse pubblico rilevante. E una denunzia alla Procura presso la Corte dei Conti perché stanno producendo un grosso danno erariale. Noi chiediamo che si risolva il problema con la comunità europea, presumibilmente prendendo qualcuno che vada direttamente a risolvere il problema. Noi siamo di una costanza veramente fuori del normale, però devo dire che l'assenteismo e la stanchezza che si crea intorno a questi problemi non è un indice positivo per l'attenzione della comunità, sia dal punto di vista politico, e questa volta parlo di partitico, non di politico in senso storico, sia dal punto di vista ambientale. Si passa oltre e così i problemi non si risolvono.